Un tempo regnavo su Ajoel Nerub, poi scoppiò una guerra che non potevo vincere. Fui ridotto in schiavito! Ma qui, in questo strano posto, nessuno controlla il mio potere! Conquisterò il Nexus! Chiunque mi si opponga finirà nella ragnatina della morte. Io sono Al-Ubarak! Un tempo a Aero-Rain e tornerò a regnare!